Quattordicesima giornata di andata del Gironei del massimo torneo dilettantistico. Il città di Messina di Giuseppe Furnari, reduce da due risultati utili consecutivi, ospita la corazzata Turris allo stadio Scoglio. Prima chance per i campani dopo cinque minuti con Celiento che ci prova con il destro ma non trova la porta. Ancora Turris in avanti, ma Paterniti pare in tuffo il diagonale di Longo. Al dodicesimo, al primo vero a fondo, il città di Messina colpisce. Calcio di punizione di Calcagno e mischia in area di rigore risolta da Cangemi, al suo terzo centro nelle ultime due partite dopo la doppietta contro la Cireale. Reazione della Turris. Calcio di punizione per i biancorossi al quarantesimo, con Adesi che però non trova la porta. Dopo i due minuti di recupero concessi dall'arbitro si torna negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 a favore del città di Messina. La ripresa si apre con Crucitti al posto dell'infortunato Cannino. Ancora Campani avanti con Vacca, traversone in mezzo per Longo, uscita con i punti di Paterniti che però colpisce involontariamente l'attaccante Campano. Attimi di paura, con l'atleta biancorosso a terra che si riprende poco dopo. Al quarto d'ora sponda di Celiento per la corrente Vacca, blocca Paterniti. La Turris preme il piede sull'acceleratore, ma i campani si dimostrano evanescenti e poco concreti contro un città di Messina solido e coriaceo. Cross dalla destra del neoentrato Kunzi e stacco di Addesi con deviazione decisiva di Bombara che allontana in corner. Longo serve a diperta sull'out di destra, ma è puntuale la chiusura di Crucitti. Calcio d'angolo dalla destra di a diperta che si conclude dopo una serie di rimpalli con la rovesciata di Longo, parata da Paterniti e conclusa con Barchetta che calcia malamente sopra la traversa. Forse in finale della Turris che ci prova con Kunzi, ma Paterniti respinge in tuffo in calcio d'angolo. È l'ultimo squillo del match con il città di Messina che conquista il suo terzo risultato utile consecutivo e mercoledì affronterà in trasferta il Logri nel turno infrasettimanale, mentre la Turris ospiterà la palmese del tecnico Ivan Franceschini sconfitta ieri dalla cittanovese.